Alberto Giordano, liutaio, assistente curatore ai violini storici di Civica, proprietà del Comune di Genova. Il violino oggi oggetto di questo bel progetto di registrazione dei 24 capricchi di Paganini, fu costruito nel 1834 da questo grande liutaio francese, Jean-Baptiste Viome. La costruzione di questa copia, che va considerata forse una delle primissime copie del cannone, ed attribuirsi a un incidente di cui il cannone fu oggetto qualche mese prima durante una torne in Inghilterra. Cade da carrozza e si procurò un paio di fratture. Paganini voleva fidarsi a Viome, allora, il più importante liutaio conosciuto, il quale ne fece un ottimo lavoro di restauro e così ebbe l'opportunità di conoscere bene lo strumento e di fare una sua interpretazione. Paganini ricevete questo strumento in dono da Viome, nonostante volesse pagarlo, lo tenete e negli ultimi mesi di vita lo volle cedere al suo allievo prediletto, al Camillo Sivori. Paganini allora ha 58 anni, la vita lo sta abbandonando, Sivori ne ha 25, quindi sta affrontando la carriera, la vogliono affrontare con questo violino, per cui Paganini vende il violino a Sivori e gira la cifra per correttezza a Viome. Sivori ebbe anche altri strumenti durante la sua carriera, si ricordano un paio di violini di Antonio Stradivari e un Carlo Bergonzi, però sempre voglia affidarsi a questo strumento nuovo quasi, per cui si ricorda una recensione sulla Gazzetta di Milano all'inizio degli anni 50 e dell'Ottocento, nella quale il cronista dice che questo Sivori, con le sue eccezionali dote di canto, non sta suonando un guarnerio, non sta suonando uno Stradivario, bensì un violino nuovo escito dalle mani di Jean-Baptiste Viome, quindi a confermare quanto interesse e quanta passione avesse il Sivori anche per questi strumenti costruiti da poco, con i quali peraltro affronterà tournée lunghe, affaticose. Sivori suonò da in tutto il mondo, possiamo dire, quindi da San Pietroburgo fino a Buenos Aires, queste tournée estenuanti, lunghissime, ecco che sempre però ecco al suo seguito questo violino che aveva anche alcuni incidenti significativi, come si ricorda quando finì ecco in carrozza di notte nelle campagne di Udine in un torrente, uscendo fuori dalla carrozza con il violino in mano, ormai fradicio, bagnato e disgregato. Il violino fu rimesso a posto da un barbiere e il Sivori si dichiarò persino soddisfatto del lavoro. Alla morte la famiglia, quindi nel 1894, volle così danare, come fece Paganini, il violino del loro grande musicista, alla città di Genova e quindi ancora adesso è conservato. Siamo ansiosi di vedere l'esito di questa bella idea.